Giannino, questa notizia inaspettata del Papa che si dimette, forse il primo caso nella storia, come la commenta? È una decisione di straordinario coraggio, ahimè ha suscitato un'enorme commozione. Benedetto XVI già tre volte nei suoi testi aveva fatto riferimento a questa ipotesi, cioè che il Papa sia chiamato a valutare qual è lo stato reale delle sue forze fisiche e psicologiche per poter adempiere un compito così importante. Quindi testimonia che anche la Chiesa Cattolica si apre alla storia e assume decisioni molto coraggiose. Sicuramente avrà un grande impatto non solo nel nostro Paese ma internazionale, lo sappiamo perfettamente. È una cosa che farà andare un po' in seconda battuta ed è inevitabile, è giusto che sia così i temi della campagna elettorale. Contemporaneamente senza voler fare accostamenti impropri, se la Chiesa con il suo capo che esercita il primato Petrino potendo parlare ex cattedra, come sappiamo, assume una decisione di commisurare al suo incarico la sua età e le sue forze fisiche e psicologiche, credo che ci sia una lezione da trarre però su cui molti dovrebbero riflettere. Perché se questo fa il pontefice a maggior ragione le tante figure che nella vita politica istituzionale del nostro Paese ritengono invece dopo decenni di volere continuare a riproporsi per incarichi apicali di governo e di figure rilevanti nella vita istituzionale del Paese dovrebbero riflettere. Perché, ripeto, che la Chiesa arrivi ad assumere una decisione di questo tipo che è una grandissima svolta e che sottolinea di fronte a incarichi così importanti i limiti che sono connessi alla fisicità umana, questo forse dovrebbe fare molto pensare. Chi pensa invece di vincerli non si capisce bene per incarichi che sono tutto sommato anche molto meno rilevanti, anche se sono importanti nella vita pubblica.